Presidente Sebastiani, ci ha tenuto a dire in conferenza che noi non abbiamo preso un giovane difensore, abbiamo preso Davide Bettella. Perché ci credete davvero a questo ragazzo? Perché è un giovane tra quelli più promettenti e importanti che ci sono in questo momento, per ruolo anche. Come di solito facciamo, noi non prendiamo il 99 o il 2000, ma prendiamo il giocatore forte. Cerchiamo di prendere il giocatore forte. Poi farà bene, non farà bene, farà meno bene, ci metterà un anno in più ad arrivare, un anno in meno, ma sicuramente ha le qualità per farlo. Minello ha detto che il Lecce dice che viene da noi e il Pescara non parla. Ma il Pescara non parla perché? Perché si sente sicuro? No, il Pescara non parla perché non andiamo a fare le chiacchiere. Quindi nel momento in cui saremo pronti per fare l'attaccante, lo faremo e lo presenteremo a voi come abbiamo fatto con Davide questa mattina. Il 31 gennaio quante percentuali darebbe a Brugman di vestire ancora la maglia del Pescara? Io personalmente il 100%, perché voi sapete tutti che rapporto, che cosa pensi io del nostro capitano. Credo che sia, qualcuno dice che è un mio figlio, perché è un giocatore che ho portato io personalmente all'epoca, io e Daniele Dellicarri, tanti anni fa, nella trattativa con Minoraio per Weiss, nell'anno della Serie A. Ed è un giocatore al quale io ho sempre creduto, perché mi viene in mente di pensare all'anno di Marino, che poi Brugman fece un campionato strepitoso in quell'anno. All'inizio del ritiro Marino mi chiese di mandare via Brugman e un altro paio di giocatori, se non vado errato. Io gli risposi che era più facile che andava via il mister, scherzando, e non che andava via Brugman. Dopo una settimana il mister, con molta onestà, mi disse che Brugman è un giocatore fortissimo, rimane qui. Quindi il rapporto che c'è con questo ragazzo è un rapporto straordinario. È evidente che comincia ad avere 26-27 anni, se dovesse avere un'offerta importante per la sua carriera, sicuramente non gliela nasconderei, però credo anche che Brugman sia molto legato a questa terra e la valuterebbe nella maniera giusta.